ciao a tutti sono tommy dell'olio vi do come sempre benvenuto nel mio studio di registrazione e nella mia regia di mix allora in questo video vorrei proseguire un pochettino il discorso visto lo scorso mese come diciamo non trovo la parola giusta ma insomma come modo di gestire ed integrare le unità in questo caso di esser all'interno del vostro mix mi spiego meglio anche soprattutto per chi magari non ha visto il mio trick precedente dello scorso mese nel quale ho spiegato come integrare al meglio i compressori all'interno di una routine di mix nella fattispecie sui canali di batteria ecco quello che vorrei spiegarvi oggi è come utilizzare un di esser correttamente e anche qui vi dico non è il a cosa serve un di esser lo sappiamo tutti ci sono un sacco di tutorial in rete non è non è il tanto come si regola un di esser a livello di quali sono le frequenze qual è la riduzione range eccetera eccetera non è esattamente questo che vorrei farvi vedere ovviamente vedrete anche questo perché il plug in aperto e vi spiegherò tutte le regolazioni ma il senso è io con un di esser cosa voglio fare voi mi direte ovviamente ridurre le esse ma la domanda è di quanto perché non è difficile utilizzare un di esser come non è difficile utilizzare un compressore come non è difficile utilizzare un equalizzatore quello che è difficile fare in modo che venga settato in modo da far risultare la traccia perfettamente integrata nel mix quindi io ve lo spiego in altre parole una volta che ho bilanciato ad un determinato livello la mia voce innanzitutto dovrò avere uno strumento di analisi nel mio caso e consiglio anche a voi un analizzatore di spettro che mi permetta di vedere non di sentire perché l'orecchio può sbagliare ma uno strumento preciso che in maniera oggettiva mi vada a misurare quante esse ho in relazione alla fondamentale quindi alle vocali possiamo dire così ok della nostra voce e contemporaneamente devo anche avere un'idea di gestione dei livelli io questa cosa la ripeto dalla nausea chi mi segue già lo sa la struttura del game la gestione dei livelli sono non la cosa più importante del mix sono il mix mi raccomando quindi io ho un mio schema di livelli preciso che permette alle mie tracce di essere bilanciate fra di loro quindi avere un ascolto gradevole e contemporaneamente permette i miei livelli di essere sotto controllo quindi pressione sonora corrette in relazione alla dinamica e anche le esse devono avere un loro spazio preciso quindi io col tutorial di oggi vorrei provare ad insegnarvi questa cosa cioè ok noi prendiamo di essere e riduciamo le esse facciamo in modo che lui riduca le esse ma quanto a che livello esattamente dobbiamo portare le nostre esse per avere un risultato ottimale no è quello che tutti cerchiamo quindi voce vellutata ma contemporaneamente chiara e sempre contemporaneamente senza che l'azione del di esser si sente in maniera troppo invasiva a me capita di sentire spesso dei mix dove tutto va bene tutto suona bene la voce si sente benissimo tutto perfetto però a livello di intendo dire di balance se così possiamo chiamarlo però a livello timbrico io sento che quella voce non va bene perché il di esser la sta storpiando la pronuncia del cantante a causa del di esser cambia è come se pronunciasse le parole in un modo diverso e quello ovviamente secondo me non è accettabile io se ascolto una voce di taylor swift mixata da serban genea anzi tutto il mix suona perfettamente il timbo della voce fantastico e questo è ovvio perché l'ha mixato serban ma contemporaneamente sento una naturalezza che mi fa quasi pensare so che non è vero ma mi fa quasi pensare caspita sembra che non sia stato fatto nulla sembra di sentire la voce della presa sembra tutto ultra naturale ecco quello lì secondo me è veramente l'obiettivo che un professionista dovrebbe raggiungere e per raggiungerlo chiaramente bisogna capire quanto far lavorare ogni unità quindi oggi con voi vorrei capire vorrei aiutarvi a capire e provare a vedere insieme qual è la quantità di lavoro ottimale da richiedere ad un di esser qual è la quantità di controllo che dobbiamo impartire alle esse per fare in modo che stiano dove devono stare quindi voce che rimane chiara ma naturale di esser che c'è ma che non si sente che lavora in maniera trasparente proviamo spostiamoci sul pro tools e vi faccio vedere tutto benissimo eccoci qua davanti al pro tools mando in play la traccia ve la faccio sentire e faccio vedere anche l'analizzatore di spettro così poi vi spiego una cosa allora questa è la nostra traccia vocale nuda e cruda io per contestualizzare meglio anche quello che andiamo a fare col di esser prima la andrò ad equalizzare perché comunque tutti immagino sappiamo che le esse a meno che non ci non sia andato storto qualcosa in ripresa ma normalmente non sono così problematiche in partenza quindi quando io ricevo una traccia vocale microfonata di solito le esse vanno anche bene finché non vado ad equalizzarla quando la vado a schiarire le esse saltano fuori allora li devo andare a tamponare ma ovviamente io sono costretto a schiarire la traccia vocale è quasi impossibile che una voce possa andare su un disco in flat quindi di fatto l'operazione via i shelf poi ne abbiamo parlato anche nei mesi precedenti che sia fatta con un saturatore con un exciter con un eq ovviamente a seconda di quale di questo voi andrete a scegliere andrete a enfatizzare più o meno le esse però come vi ho già spiegato anche nei precedenti tutorial adesso non mi voglio ripetere non è che scelgo di usare un saturatore anziché un eq perché così ho meno problemi di esse scelgo quello che mi dà il suono che sto cercando se poi quest'ultimo che ho scelto mi crea problemi di esse pazienza li andrò a risolvere con un altro plugin però la cosa importante è che alla fine la voce abbia il timbro il tono che sto cercando quindi diamo a questa voce classicissimo un pizzico di i shelf questo è un 8 db a 1600 hertz ma non ha importanza noi ci muoviamo con l'equalizzatore e ad orecchio cerchiamo il punto che ci piace di più sentite il risultato allora da qui possiamo partire con il nostro di esser però prima devo fare una considerazione preliminare importantissima su cui si basa un po tutto questo video a dire la verità io adesso vi spiegherò come secondo me è ottimale qual è il modo ottimale per utilizzare un di esser ma quello che sto per dirvi non è una cosa estemporanea giusta lo usate così siete a posto è una cosa che viene il di esser stesso viene settato in relazione ai livelli che voi decidete di tenere in mix quindi al gain staging che voi decidete di tenere all'interno del mix io l'ho ripetuto tante volte ma lo faccio una volta in più il gain staging è la cosa più importante in mix decidere sapere ogni cosa a che livello deve stare ognuno degli strumenti fondamentali ma vi dirò di più non basta ognuna delle frequenze degli strumenti fondamentali deve andare ad occupare una determinata porzione di spazio altrimenti il mix si sbilancia poi io come dico sempre ai miei allievi quelli che si rivolgono a me per i corsi di mix per i percorsi privati tutto il resto io l'invito sempre a fare un'osservazione prendiamo dei prodotti professionali prendiamo 5 10 15 20 canzoni professionali all'interno di un determinato ambito stilistico per esempio io mi occupo di pop quello che chiamo modern pop che non vuol dire niente ma ci siamo capiti nel senso quello che è il pop moderno oggi non so dualip a riana grande selena gomez katy perry i bts in corea quel genere di musica lì ok noi prendiamo dei prodotti pro suonano tutti uguali hanno tutti le stesse proporzioni hanno tutti più o meno le casse rullanti allo stesso livello non tutti più o meno le voci allo stesso livello hanno tutti la stessa quantità di alte basse frequenze hanno tutti lo stesso rms in mastering lo stesso nel senso dice a quell'oscillazione di un db o2 in relazione un po il gusto del fonico un po il gusto del produttore un po allo specifico della canzone ma sono piccole cose il 99 per cento è uguale per tutti ecco voi mi state dicendo che quella roba lì è stata fatta a orecchio che è stata fatta a sentimento ma è impossibile se tutti finiscono lì è perché ovviamente quel lì ha un indirizzo specifico le basse devono avere quella determinata pressione la voce rullante la cassa il click della cassa quante basse quante alte dare la cassa quanto devono essere l'essere della voce quanto deve essere il chale sono in un kit di batteria ci deve essere ovviamente un riferimento per ogni cosa sennò sarebbe impossibile ricostruire uno dieci cento mille un milione di mix tutti uguali e tutti ben suonanti nello stesso modo quindi ritornando a noi io comincio a dirvi un concetto adesso non sto spiegarvi quello che il mio game stage sarebbe impossibile farlo in un tutorial come dico sempre per chi è interessato è meglio che si rivolga a me per un percorso personalizzato per ci vuole molto più tempo però vi dico questa voce spengo un attimo le questa voce è stata settata con i plug in che ho messo il guadagno stesso del plug in il federa anche di volume no vedete che qui ho dato un 2 db e mezzo è stata settata per arrivare a circa meno 10 db sulla sua fondamentale vedete che sull'asse verticale la mia voce arriva quasi a sfiorare il meno 10 in realtà ad essere sinceri non lo sfiora perché lo sfiora perché lo tocca quando accendo le q e tac vedete che si accende perfettamente la luce gialla del meno 10 ecco questa è la prima informazione preliminare importante prima di dire che cavolo ci faccio con sto di essere devo sapere a che volume deve stare la mia voce questo non è il volume giusto è il volume giusto per me i game staging chiaramente possono essere personalizzati io prima vi dicevo tutti i dischi devono finire lì infatti tutte le canzoni che ascoltate finiscono lì però è come ci arrivate io posso decidere di tenere dei livelli un po più alti per dopo andare a compensare un po di meno in mastering i db mancanti posso decidere di tenere dei livelli un po più bassi e poi andare ad aggiungere un pochettino di più in mastering dipende insomma però provate a seguire il mio discorso io cerco di darvi le informazioni ovviamente necessarie e fondamentali per capire il senso di questo tutorial io stabilisco un livello a cui la voce deve stare e questo livello nel mio caso è meno 10 proviamo a dare un'occhiata sempre a decuspento alle s proviamo a far caso io selezionato selezionato questo slice perché quando la cantante dice shelter quando c'è la sh è molto forte guardate vedete che quando dice shelter in quella porzione di frequenze cosa siano 5.000 hertz forse più o meno si 5.000 6.3 questa zona qua ecco questa zona qua di frequenza avete visto lì la cantante andava con le s a toccare i meno 20 ottimo valore peccato che la voce flat guardate cosa succede se la vado ad equalizzare sono arrivato a meno 12 quindi praticamente ho guadagnato 8 db beh ho bustato di 8 db ho guadagnato 8 db chi mi segue che ha visto il tutorial che ho fatto per esempio sul la differenza fa un high shell fatto con un digitale q come questo è un saturatore parlavo proprio di questa cosa qui se io busto se io busto le alte con un equalizzatore analogico vado a introdurre saturazione compressione eccetera 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 intendo dire proprio nel circuito stesso delle q se io busto con un digitale q busto 8 sale 8 busto 10 sale 10 busto 5 sale 5 perché la risposta di questo q questo q è talmente bello elettricamente preciso pulito perfetto che ovviamente la risposta ai transienti è sempre perfetta quindi busto 8 va su di 8 ecco a che livello e questa è la seconda domanda che ci dobbiamo porre se la mia voce più o meno deve stare con la sua fondamentale a meno 10 a che livello io voglio che stiano le s ecco io voglio che stiano a meno 20 e della dico in relativo così è più è più facilmente applicabile per ciascuno di voi io vorrei che rispetto alla fondamentale le s stiano 10 db sotto quindi decidete di mettere la voce a meno 10 le s staranno a meno 20 decidete di mettere la voce a meno 15 le s staranno a meno 25 e così via ci deve essere uno scatto di circa 10 db che se ci avete fatto caso è praticamente quello che la voce in origine a questo in realtà è un caso però testimonia che questa voce è stata ripresa molto bene la voce come ci è arrivata flat aveva esattamente un divario di volume farà fondamentale le s di 20 e scusatemi di 10 db infatti da meno 10 le s andavano a meno 20 io poi l'ho equalizzata per schiarirla sono salite anche le s ed ecco che finalmente ci siamo cioè adesso io ho raccolto tutte le informazioni necessarie per poter far lavorare il mio di esser il mio di esser deve riportarmi le s a meno 20 guardate io l'ho già regolato ve lo faccio subito sentire finito poi discutiamo sulla regolazione sentite la partenza arrivo perfetto io ho la voce schiarita ma con le s che sono esattamente allo stesso livello di come erano nella versione naturale non equalizzata risultato perfetto voce perfettamente sotto controllo direi molto semplicemente molto semplice ottenere questo risultato ottenuto molto semplicemente il risultato a patto di sapere esattamente cosa stiamo cercando questo ripeto il concetto importante quindi avere un'idea di io adesso sto facendo un mix in trick quindi non è un mix completo ho estrapolato un elemento per farvi vedere una singola tecnica e infatti preferisco dirvelo in relativo cioè prendete la vostra voce mettetela dove volete a livello di balance con gli altri strumenti eccetera 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 come vi piace col vostro di stage in quello che volete dopo di che attivate il di esser in modo da fare da far sì che le s scendano di circa 10 db rispetto alla fondamentale questa è una buona proporzione che si trova nei dischi io penso ovviamente nei dischi è un po generico poi non tutti i fonici mix sono nello stesso modo soprattutto su cose così specifiche è chiaro che come vi dicevo prima il volume della cassa del rullante del basso della voce a un determinato livello in un determinato genere è più o meno uguale per tutti il come vengono gestite le esse se io penso al signor ser bangenea le gestisce in modo magistrale e più o meno la proporzione è questa infatti io copio da quello che per me è il migliore se penso ad altri fonici di cui adesso non voglio fare il nome perché non sarebbe carino che le gestiscono un po meno bene ecco il divario è diverso è più ridotto quindi le esse diventano un po più aggressive quindi il senso è dobbiamo sapere esattamente qual è la quantità di riduzione che vogliamo impartire con il nostro di esser alle esse ovviamente poi il mio consiglio è studiate approfondite il più possibile tutto ciò che riguarda la gestione del game mixare vuol dire quella roba qui vuol dire avere sotto controllo ogni punto ogni virgola di qualunque aspetto di qualunque plug in di qualunque cosa fate solo ed esclusivamente in questo modo potete ottenere il suono che volete perché a seconda di quello che desiderate sapete dove andare ad agire vado al plug in come funziona un di esser? beh molto semplice una specie di trigger per batteria nel senso che lui riesce a riconoscere quali sono le consonanti più fastidiose in questo caso prevalentemente le esse e va a ridurre solo quelle non è un multibanda che abbassa le alte va a ridurre la porzione di frequenza che noi selezioniamo qua sotto di cui adesso vi parlerò ma solo in relazione alle esse e similari e le consonanti più fastidiose allora beh come un compressore noi regoleremo la threshold innanzitutto per fare in modo parlo del mio plug in che vengano triggerate tutte le cose tutte le esse e tutte le consonanti fastidiose che ci servono quindi in relazione al volume della traccia intendo dire della wav traccia wav vocale andiamo a regolare le nostre esse semplicemente tutto molto easy regoliamo la threshold come se fosse un compressore poi seconda cosa che andiamo a regolare è questo cioè la forbice di frequenze all'interno della quale il nostro di esser deve lavorare ci sono due tipologie di di esser ci sono dei di esser che lavorano in high shelf sottrattivo quindi non so e dico dai 3000 boon tira giù tutto dai 3000 a fine spettro lui tira giù tutto ci sono dei di esser come questo invece che lavorano come se fossero come se fossero multibanda quindi io dico in bel acqua in realtà è a quadrato però che vanno da una determinata frequenza a un'altra determinata frequenza cioè c'è un inizio una fine in quella porzione di frequenze lui va ad attenuare quindi in questo caso ai 3500 ai 12500 più o meno io vado ad attuare ad attenuare le s vi potrei dire andate con l'analizzatore di spettro a vedere le s esattamente su che frequenze si trovano e di conseguenza regolate il vostro di essere va tutto bene va benissimo però onestamente anche un po per pratica e per quotidianità vi posso dire che se state fra i 35 e i 12 e 5 più o meno intercettate tutto di tutti i cantanti quindi questa è una regolazione di frequenze che più o meno va sempre bene da lì col potenziometro del range vado a decidere quanti db attenuare vedete che però io ho messo il range a 12 db non vuol dire che sto attenuando 12 db perché l'attenuazione vedete che è un po di meno attorno agli 8 9 in realtà io non regolo né guardando questo meter né guardando questa cifra ma giro questo rotellone del range finché io mi fido solo di lui finché non vedo sul mio digi check quindi sul mio analizzatore di spettro di fiducia non vedo le s toccare la soglia desiderata cioè i meno 20 in questo modo innanzitutto come avete sentito il risultato è perfetto è proprio una cosa matematica le s sono perfettamente controllate l'azione del di essere quella giusta non è né troppo aggressiva come accade con chat i rapper italiani non è le s comunque sono ben controllate l'azione del plugin abbastanza trasparente è tutto perfetto tutti contenti tutto perfetto ed è molto semplice ottenere il risultato la cosa importante è ovviamente avere un minimo di teorie di conoscenza bisogna come dico sempre bisogna conoscere un mestiere cioè io devo sapere dove portare la voce e da lì quanto abbassare le s a che livello in relazione a tutta la struttura del gain del mio template io devo sapere le s dove devono stare per me devono stare a meno 20 quindi tac giro la rotella finché non hanno meno 20 una volta sono meno 20 so che si integrano perfettamente con il resto del mix la voce chiara abbastanza non ci sono difetti di pronuncia contemporaneamente le s sono sotto controllo quindi è tutto molto semplice come sempre no una volta che sapete cosa dovete fare quindi in estrema sintesi io vi direi procedete così regolate la voce al volume che desiderate dopodiché regolate il di essere nel modo che vi ho fatto vedere poc'anzi e mi abbassate le s fin tanto che non vanno a circa 10 di b sotto rispetto al chilo e agli 800 milahertz della fondamentale in questo modo ottenete un risultato esattamente identico a quello che vi ho appena mostrato nel tutorial che è importante secondo me il di essing al giorno d'oggi secondo me è un'operazione importantissima non sono in molti a farla come va fatta perché c'è sempre un po' quella ambiguità del no cioè se tengo la voce un po' più morbida poi è troppo scura se schiarisco la voce come vorrei poi mi escono troppo le s e quindi ovviamente l'equalizzazione della voce deve essere quella corretta quindi di conseguenza le s devono essere tamponate nel modo e nella quantità giusta quindi sapere utilizzare il di essere tutto quello che va sulla voce secondo me è importante il di essere di questi tempi lo è sempre di più proprio in relazione al fatto che se voi ascoltate i dischi degli anni 60 70 80 90 2000 la 2010 attuali sentite che tutto diventa sempre più forte e nel caso delle voci sempre più chiaro e quindi di conseguenza il di essing è una cosa molto importante spero di avervi fatto vedere non difficile non così difficile da gestire anzi non difficile da gestire però ecco bisogna porre attenzione a queste cosine quindi provate provate ad implementare questo tipo di procedura nel vostro schema di lavoro poi fatemi sapere ovviamente se funziona oppure no se avete dubbi oppure no molti di voi mi scrivono e io cerco sempre di rispondere a tutti con piacere e di levarvi più dubbi possibile e detto questo vi auguro buon lavoro ci vediamo il mese prossimo e come sempre ovviamente buon mix a tutti ciao ciao